Fanno parte del progetto Accordiamoci della Fondazione Scuola di Musica dell'Oltrepo Mantovano Sono gli Omnes E' un tecnico del Fondazione che guarda e non si muove Ah, ok, grazie. Siamo in Diogo, adesso vi presentiamo il nostro pezzo, si chiama Make You Feel. Siamo in Diogo. 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 Sì. 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 No. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.